Dottore Lavecchia, situazione vaccini, ci sono soprattutto per le fasce più deboli? Al momento abbiamo i frigoriferi vuoti, non ne abbiamo di vaccini, stiamo aspettando, ci stanno promettendo che dovrebbero arrivare 15-20 mila dosi e quindi diciamo che siamo sempre favorevoli ad accettare quello che ci viene detto dalla nostra azienda, per cui aspettiamo per fine settimana, inizio della settimana prossima queste nuove dosi per cui invitiamo la cittadinanza ad avere un attimino di pazienza, la vaccinazione è sempre valida, possiamo farla anche nella prossima settimana e ci auguriamo che queste dosi siano realmente già nei magazzini e che vengano distribuite nei nostri frigoriferi. Senta, test rapidi, il medico di base è nelle condizioni di poterli fare? Il medico di base ha un'azione sociale e sanitaria, per cui il nostro problema maggiore è quello di curare la salute dei nostri cittadini ma nel rispetto della sicurezza sia dei cittadini che dei medici stessi, per cui noi siamo pronti a fare i tamponi, a fare tutto quanto quello che il Ministero della Sanità e la Regione ci dice di fare, fermo restando che lo vogliamo fare in massima sicurezza per i medici e per i cittadini quindi a disposizione dei locali da parte dell'azienda e problemi per fare i tamponi non ce ne saranno nel modo più assoluto. Poi altra cosa sarà il quantitativo di vaccini che avremo a disposizione, che sicuramente non potranno coprire tutta quanta la popolazione perché come ben sapete l'acquisto è di 10 milioni di unità per tutta la nazione, quindi siamo a un quinto della popolazione.